Cilento, Salerno, Alvia a Pioppi il corso di formazione per biologi marini, 5 giorni di lezioni, immersioni e laboratori, organizzato dal Museo Vivo del Mare di Pioppi, in collaborazione con la stazione zoologica Anton Dorn di Napoli, che si terrà fino al 6 settembre 2024 nella storica sede di Palazzo Vinci Prova a Pioppi. Il corso si articolerà in 5 giorni di intense attività che includeranno lezioni frontali, immersioni subacquee e sessioni di laboratorio. La conferenza di apertura si è tenuta nella sede del Museo Vivo del Mare di Pioppi ieri 2 settembre alle ore 10. Presenti, Stefano Pisani sindaco di Pollica, Giuseppe Coccorullo presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Michele Buonomo di Legambiente Campania e Valerio Calabrese direttore del Museo della Dieta Mediterranea. Il programma del corso sarà suddiviso in quattro moduli principali, Studio, Analisi e Monitoraggio, Attività di Campo, Attività di Laboratorio, Elaborazione dei dati di campionamento. Questo corso rappresenta una risorsa preziosa per chi desidera intraprendere una carriera nell'ecologia marina o per chi intende approfondire ulteriormente le proprie conoscenze in questo campo.